Il Campobasso si riprende la vetta del campionato, lo fa vincendo senza troppi fronzoli contro Casteldisangro che rimanda ai punti, ad altre partite contro altri avversari. Di Meo deve rinunciare all'infortunato Tordella e rivede Fruscella dal primo minuto, nota positiva di giornata fra le altre. Di fronte a poco più di 300 spettatori infredoliti, dirige Di Domenico di Sernia, già dopo poche battute. Rosso-Blu vicini al gol, 40 secondi per l'occasione di Lombari, parata da Diop, battuto il calcio d'angolo. Il portiere ospite schiaffeggia il pallone, Cavallini poi alza sopra la traversa. Al nono, Angolo-Vanzan, testa Fruscella parata dal portiere del Castello. I Rosso-Blu costruiscono gioco e palle gol, al sedicesimo da Lombari per Ripa che chiude fuori. Gol del Campobasso al sedicesimo, al termine di una buona trama, il pallone smistato da Traore e corretto in fondo al sacco da Ripa. Rosso-Blu avanti e che siglano il bis solo due minuti più tardi, con Diop, portiere ospite, che esce di testa fuori area per anticipare Ripa, ma non fa i conti con Vanzan che va a realizzare a porta in difesa. Campobasso, due Castel di Sangro, zero e partita ampiamente in ghiaccio così. Al trentaduesimo, angolo di Fazio, stacco di Ripa ad incrociare e palla a lato. Al trentaquattresimo, angolo di Fazio e Fruscella a girare out il pallone. Il baby attaccante cerca molto il gol e lo trova al quarantasettesimo lanciato a rete e segna mezza altezza fissando il punteggio sul 3-0 già a fine primo tempo. Immagini di Francesco Mancini, cambi per i due tecnici dal primo della ripresa. Di Meo fa entrare Franchi, Guillari, Potenza e Anastasia per Vanzan, Ripa, Fruscella e Lombari. Bonomi inserisce Abruzzese per Di Cicco. Discreto l'impatto dei neo entrati, alcuni dei quali se n'erano due reti delle tre della ripresa. Al ventesimo, il poker di Guillari sul pallone offerto da Tizzani. Rosso-blu ora sul 4-0. Pokerissimo ad opera di Potenza al ventiduesimo, grazie ad una girata dopo servizio di Guillari. Infine, il gol del definitivo 6-0 grazie a Franchi che, dopo uno scambio con Guillari, segna a mezza altezza al malcapitato di Hop. Il Castel di Sangro di Bonomi si concentra ora sulla lotta salvezza. Il campo basso si riprende prepotentemente il primato e sposta l'attenzione ora sulla finale di Coppa Italia. Domenica c'è l'Aurora Alto Casertano a Venafro. La vincente giocherà contro il Sambuceto che ha battuto l'Aquila ai calci di rigore questo pomeriggio sul neutro di Sulmona. Nel pomeriggio, per il campionato di promozione Molise, recupero fra Trivento e Aisernia Fraterna. Hanno vinto i pentri 3-2 sul campo dell'Acqua Santiani. Nel pomeriggio, per i pentri 3-2 sul campo dell'Acqua Santiani.